Ricordiamo, è quella che vedrà Klus, l'altro messicano, torniamo Attenzione, però il colpo, KGD lo blocca, lo blocca a dito medio Eh ma siamo all'esterno del ring, ricordiamolo eh E c'è la sua standard modificata So backfire Eh ma siamo comunque all'esterno, Spinebuster, no Eh no, qua ha voluto pretenderlo, ha preteso troppo KGD, ma c'è ben da qui, dentro la sua ring, KGD Mentre il messicano, Attene fuori Entra ma molto stanco, attenzione Si va a spiegare una grande occasione Però KGD lo prende, è troppo, con un'azione di 180 gradi È finita qua, è già, qua è finita Uno, due, no Sono rimasto incredulo Da questo kick-out tennissimo Eh c'è di 12-13 minuti, davvero un interesse altissimo Ah cioè ma è una spalla del stile football Ora mette lì, a modi di vestirello Brutta posizione per KGD Ah cioè ma è qua, va l'assalto Mamma mia Assurdo, un drop kick dritto sul volto Qua ha fatto svinire Uno, due E non c'è il tre ancora Niente da fare, niente da fare Non c'è il tre Ancora una volta Ah cioè ma è qui va il volto È molto stanco KGD Che fa KGD Che fa KGD Un suplexo E davanti Un spacebuster devastante E qua penso che sia la fine Perché stanno anche malciando KGD però a vuoto Malciando le spalle KGD è molto bravo Grotto a liberarsi Se l'aspettava forse Se l'aspettava forse Attenzione Ancora Ancora Back drop Eh sì Tansplex Anzi suonate il là Tansplex suplex Che ha chiuso il match Penso eh Uno Due No ancora no Incredibile Comitata di KGD Malciomene è stanchissimo qua Dove si guardano Malciomene lo prende Eh lo prende Boli slam Mamma mia qua L'ha schiantato Uno Due E non c'è il tre Neanche stavolta Mecha che non vuole terminare Tra questi due grandi incontri Pensare che sono solo I quarti di finale Primo Mecha Formaggio Ma è andato Oh attenzione Però qua Dava l'angolo Di KGD Dava l'angolo All'angolo Può chiuderlo Può chiuderlo Uno Mamma mia Appena uno stavolta Soltanto uno Allora che GD Quello prende ancora Un altro Un altro Ben troppo Incredibile Ecco la moschiera Dai Uno Due No Mentre a fare Malciomene non ci sta Malciomene non ci sta E va con il net Prego Mamma mia Qua l'ha spedasciato Qua l'ha spedasciato Eh si C'è la spybuster C'è la spybuster Una manovra devastante questa E qui che GD Non si rialza Ammirando troppo la schiena Malciomene Uno Due E non c'è tre Che cauta assurdo Braccio destro L'ha di KGD Che va anche a segno Con un elbow drop Pazzesco E qui deve chiuderlo Deve andare allo schienamento Si che GD qua deve chiudere il match Al suo momento Al suo momento Lo prende Atomic drop Atomic drop Incredibile Che GD vuole chiudere Vuole chiudere Non aspetta il barco Basta Lo va a riprendere Saman drop Saman drop A segno E qua Penso veramente che sia la fine Uno Due No Incredibile E attenzione No L'ho preso alla sprovvista qua Trucifix power Bamba Addio che GD Grande match Ma alla fine La potenza di Macho E non ha avuto la meglio Uno Due E tre Seconda sconfitta Perché GD Pesantissima questa Anche perché non prosegue il torneo Il torneo che viene invece Proseguito da Macho Che settimana prossima Dunque affronterà Martin Johnson Mentre l'altra parte Del Nemoro Contro Clusa Due sicani Che dunque Potrebbero arrivare In finale Che sono arrivati In semifinale entrambi E si Grande triunfo qua Per Macho Man Che dunque passerà Insieme in finale Adesso andiamo al match Andiamo prima Se non sbaglio L'intervista Vediamo un po' E si L'intervista Di Dalia A Serenzi Sharam Che dubbuterà Trattacchissimo Contro Carla Blonde Match Odevole Per il torneo Per il titolo femminile Divas NWS Che dubbuterà Good evening Everybody Here this is Delilah With one of the four NRWS Divas Serenity Sharon Helen And girls So Serenity In a few moments Will be in action Against Carla Blonde What are your thoughts My thoughts My thoughts Yes They are too much And so variegated But To make a summary I tell you Carla is not Facing a 18 years old boy Not a nice little girl That fucking bitch Is facing the madness itself My name is Serenity Sharon I challenge a world Contaminated With my madness Thank you so much Sharon Thank you so much Thank you so much Eccola qui Serenity Sharon Pronta per il là Su debutto qui NWS L'ex lottrice Dello Vaglio 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 Fantastico Ora pronta Per il suo match Contro Carla Blonde Parole molto pesanti Le sue peraltro Contro La professoressa Lini Chedesta Vaglio 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 scopriamo chi andrà contro Flora per la finalissima per il torneo di Vasa di NWS per la prima volta nella quinta stagione ci sentiamo alla prossima verrà ancora nata la prima campionessa di NWS mentre tra due settimane ci sarà la finale per il titolo NWS maschile ovviamente subito va contro il torneo di T la Carla con Serenity che ha espresso parole anche molto vulgari però insomma lei è così, ha fatto così lei è di mezza passa ha un po' questo stile di vita oggi vedremo chi tra le due viene raggiungere a Flora io vedremo il bel match tra Serenity, Sharon e Flora però sarà un bel peccato per Pepe e secondo me è anche un po' traita dall'emozione troppi fan aveva e Flora ha approfittato di questa situazione con le sue protobombe magnifiche grande potenza poi di Flora perché ha sollevato meno 75 kg e per una diva non è poco attenzione va colando schicca la Carla Blonde è molto bravo tecnicamente lei e anche lei proveniente da scuole tedesche Kingland Federation e negli Stati Uniti Kingland Federation o Agli Valle Vest in fantastica noi siamo contati a incontrare in passato ecco perché la Sharon aveva spesso però anche piuttosto forti sui confronti flashback intanto qua si la Blonde ha assolutamente buone manovre le sue buone frecce le sue frecce non deve essere ripetitiva però o fa e scratcher intanto la parte di Sharon che è un po' disordinata nei suoi movimenti però potrei invece racconassi di Carla e lei è la professoressa non deve essere molto tecnica ma attenzione il Sissor Andre il Sissor qui incredibile una Nora che vediamo molto poco raramente eh questa Sharon è pazza perché ha rischiato molto eh con quella manovra però attenzione qui mira anche l'abbraccia la Carla si c'è proprio una strategia non si è totalmente differente tra i due l'altra una cioè Sharon lotta così non c'è una strategia ben finita dall'altra parte invece abbiamo una strategia ben finita con la Blonde che si sta dimostrando davvero ottima sotto questo profilo se la di Sharon non lo va qua è fuori da ringa oh vuole sparicare il tavolo eh si vuole sparicare il tavolo no no qua sta rischiando oh dove va poi dove va oh mio dio da lì sopra no 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 non da lì sopra non da lì sopra attenzione una di T sul tavolo di commento incredibile oggi non era stato fracassato beh è stato fracassato adesso fino adesso si era mantenuto insano il tavolo che è stato fracassato la prova di T ha sentito la carla blonda che fragisce mamma mia che colpo guarda il gas serenity grande vantaggio adesso secondo me psicologico anche però la testa la carla blonda che non ci sta mamma mia questa è questa è molto forte la sta punendo praticamente come una una pulizia che fosse una pulizione per bambini maleducati siamo due mondi totalmente opposti un conflitto quest'oggi ancora la FESBUSTER la parte di Sharon che poi reagisce molto bene attenzione ancora ora la rana bene seguita bene seguita ma non avrei a volte un po' disordinate ancora attenzione qui carla blonda sta rischiando Sharon dal paletto vai dal paletto vai dal paletto oh leg drop altissimo cioè che colpo uno due ah non basta ma che colpo di Sharon qua un leg drop altissimo dal paletto complimenti perché non era facile però nelle relazioni passiste ma carla blonda ancora una volta c'è Joe Breger qui spezza mandibola Sharon è molto magra eh la donna ha un po' più di muscoli però è sempre anche lei abbastanza snella e attenzione Sharon che fa qui no oh mio che il sole eh sì il suo long case goodbye goodnight anzi il bacio il bacio della buonanotte tutti a casa ranno schicca poi dritta la tempia uno due non basta qui Sharon potrebbe farsi prendere dalla frustazione scusate Roblox non riesce a reggire adesso sì forse è una razione no questa è matta Sharon questa qua oh tra un kick all'angolo ancora e poi la girocchiata ce la sta massacrando che l'ha fatto fare a Carlo Bruno guardate qua mamma mia la spiattella suolo questa ma veramente non la pietà attenzione a Carlo Bruno qua un drag land drop eh sì tipica un'ora un'ora in base ma efficace questa oh attenzione a questo scolpo questo abbraccio nese in versione Hacker in rincorsa della Serenity che va a chiudere uno due no non basta ma che bella manovra bel match bellissima puntata fino adesso comunque davvero molte manovre interessanti in questa puntata secondo i bisogni di NWS stavolta 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 della tirisca grande condizioni anche la tirisca bel match sta venendo fuori all'angolo stavolta stavolta all'angolo attenzione questo match è abbastanza lunghetto 7-8 minuti tra le due e attenzione qui Spopecaccio di Serenity uno due no mamma mia veramente vicinissima e attenzione e si sono allora di Carla Blonda ha scopiato ovviamente la manovra di Serenity Sharon che è qui in calza ancora mamma mia rolling snap e poi guarda il posto creme mira le gambe per non farla correre è chiaro Carla Blonda studiava bene la professoressa tedesca attenzione 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 randonda molto brava le spalle mi entra a fare